Arrivano per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del Cratere ben 751 milioni di euro dal Cipe, soldi per il recupero degli immobili privati danneggiati dal terremoto del 2009. La fetta di fondi più consistente va al Comune dell'Aquila che incassa 428 milioni. I restanti 284 verranno ripartiti ai 55 comuni del Cratere, a vigilare sul loro uso la struttura di missione. Per completare la ricostruzione ovviamente serviranno altri fondi. La crisi di governo in corso preoccupa tutte le strutture, ammette il vicepresidente della regione Abruzzo Emanuele Imprudente, ma a suo giudizio i fondi per l'Aquila non sarebbero in pericolo perché frutto di intese precedenti. La crisi di governo sempre di per sé genera preoccupazioni e ansia rispetto a quella che è un'azione di governo in sinergia tra quella comunale, regionale e nazionale. Mi auguro che si chiuda nel più breve tempo possibile, ma soprattutto mi auguro che possa passare per un ritorno alle urne dove i cittadini italiani dicono in maniera chiara quello che deve essere il governo del nostro paese. Per la Lega l'imperativo resta quello di andare subito alle urne, così da avere un governo forte che sia in grado di proseguire progetti e firmare provvedimenti essenziali per i territori. L'Aquila in particolare ha diverse questioni aperte, ad esempio il commissario del Gran Sasso e la restituzione delle tasse, soprattutto da parte delle imprese. La partita qui è tutt'altro che chiusa e il problema non è affatto risolto. La proroga intanto scadrà il prossimo 31 dicembre. Per una forza di governo regionale, nazionale, comunale non può che non esserci preoccupazione. Quando c'è responsabilità di governo assolutamente c'è responsabilità e c'è preoccupazione rispetto a questi temi. Noi siamo convinti che prima si va il voto, prima c'è una certezza di un governo per poter interloquire in maniera forte e continuare l'azione messa in campo perché come governo regionale, su temi che poc'anzi sono stati detti, io credo che la Lega, il sottoscritto, abbia tirato la carretta in maniera pesante. Viene meno oggi un governo, è un'intesa già fatta, io credo che serva semplicemente una firma di un Presidente del Consiglio senza riaprire termini e condizioni particolari per fare i giochetti della politica. A livello comunale, per Imprudente, la crisi non porterà scombussolamenti vari, ma si attende un'azione più incisiva dopo due anni di governo biondi, così come aveva fatto già notare il deputato Luigi Deramo. Noi come Lega stiamo chiedendo, dentro il Comune dell'Aquila, di dare una maggiore incisività e azione di governo su alcune tematiche. Ne traccio un paio su tutte. I problemi legati alle SPA comunali.